Buongiorno a tutti, mi chiamo Raffaello Ghilardi, ho la responsabilità dei sistemi informativi del gruppo Giunti. Il gruppo consta di 19 aziende, gestiamo 18 marchi editoriali, abbiamo un catalogo di circa 8.000 prodotti e usciamo annualmente con circa 500 novità, come si sono un pochino i numeri. Il gruppo ha 1.000 dipendenti, 180 punti vendita e ha un fatturato intorno ai 200 milioni. Questo per darvi un attimino la dimensione dell'azienda. Ci puoi raccontare anche un po' l'infrastruttura che stai gestendo? L'infrastruttura che gestiamo in questo momento è fatta da due data center, uno praticamente nella sede di Via Bolognese a Firenze e l'altro nello stabilimento produttivo a Prato. Abbiamo circa 150 tela di storage da gestire, lavoriamo soprattutto, dato il business, con piattaforma Mac e gestiamo circa 200 milioni di file su file server Windows. Siamo passati da un'architettura tradizionale, quindi il classico storage, anzi addirittura inizialmente una SAN praticamente con dischi locali, poi storage classici, dopodiché siamo andati su tecnologia il Triper F400 per quanto riguarda il team provisioning, perché per noi era un dramma il fatto di gestire lo spazio. Dopodiché siamo arrivati praticamente alla parte SSD con deduplica e compressione, perché nel nostro mestiere è abbastanza normale il fatto che si tengono 3, 4, 5, 6 versioni dello stesso file, perché poi si vanno a rivedere, perché poi si cambia il carattere, perché poi si cambia l'impaginazione, insomma si rivedono molto spesso le strutture dei file. Il nostro problema fondamentale da gestire era il backup, perché la richiesta di recupero file, non dico è quotidiana, ma sicuramente è settimanale, e andare praticamente a recuperare un file su un backup da 20 tera diciamo diventava effettivamente un problema. Quindi non abbiamo problemati di database o velocità sull'analytics, piuttosto che no, diciamo molto più terra terra, il nostro problema è il file server. Quindi questo ci ha praticamente portato in primis a cambiare tecnologia, quindi a non andare direttamente allo storage sul nastro, perché ovviamente la latenza non era il nastro, ma era ovviamente sulla sorgente. Quindi il nastro stava ad aspettare che praticamente venisse letto il dato, venisse creato il pacchetto e poi scritto sul nastro. Da lì abbiamo fatto un salto sulla parte disco-disco tape, quindi andando praticamente a utilizzare delle nasse, però anche lì non eravamo contenti, perché comunque il nostro backup non riuscivamo a completarlo entro le 72 ore dall'inizio. Passando ovviamente a un'infrastruttura che ci ha permesso delle letture notevolmente più veloci rispetto alle infrastrutture tradizionali, siamo riusciti a completare praticamente i backup in tempo utile per poter poi essere pronti a fare il restore a questo punto quasi in tempo reale, perché prendendolo da nasse si riesce potente a servire l'utente in maniera molto più veloce. Ma i file server sono, perché mi hai detto due sedi, quindi i file server sono tutti in una sede, concentrati? Allora i file server sono tutti in una sede, che è la sede di Firenze dove c'è praticamente tutta la parte editoriale. Diciamo l'alto data center serve tutta la parte di stabilimento di stampa e magazzino, ma praticamente non esiste la produzione editoriale. Quindi diciamo sono tutte macchine virtuali che offrono servizio per quanto riguarda la parte di gestione di quello che noi chiamiamo il serpentone, quindi praticamente è tutto l'automatismo che ci consente di spedire le scatole con i libri clienti, oppure le macchine da stampa che sono delle linee di stampa in quadricromia dove noi praticamente stampiamo i libri del gruppo. Mi raccomando se avete delle domande che magari non vengono in mente a me, alzate la mano che vi diamo il microfono e non siate timidi. La prima domanda che ti faccio è, va bene gestite i file, ok? E quindi l'SSD ti ha dato un vantaggio soprattutto sul fatto di poter avere questo primo tier molto veloce. Lo usate in maniera automatica, quindi con un meccanismo di tiering, con un meccanismo di caching, perché tutte queste sono tecnologie disponibili oggi, oppure sono volumi separati in funzione? No, allora abbiamo fatto questo tipo di scelta. Prima parlavi praticamente di durata dell'investimento. Noi sullo storage tradizionale il primo c'è durato 6 anni, il secondo c'è durato 5 anni, il terzo che è questo qui dell'F400 praticamente c'è durato 4 anni. Quindi siamo andati sempre a ridurre praticamente la lunghista dell'investimento. L'abbiamo deciso di affiancare allo storage, allo F400, lo storage SSD, solo ed esclusivamente per questo tipo di problematica. Che fra l'altro non ha risolto soltanto il problema, diciamo, del servizio all'utente oppure del backup, ma un problema che non riuscivamo praticamente a risolvere. Ovvero noi lavoriamo con la piattaforma Adobe, quindi tutta la parte di InDesign per quanto riguarda l'impaginazione. E Adobe paradossalmente non garantisce, diciamo, il funzionamento in rete del proprio applicativo. Quindi se tu hai praticamente la loro infrastruttura, viene garantita. Se no ci sono effettivamente dei problemi. E a noi succedeva spesso praticamente che i file rimanessero aperti sul file server. Quindi nonostante la stazione chiudesse il file e venisse salvato correttamente, praticamente cosa succedeva? Quando si andava a riaprirlo dopo un minuto, ti diceva, è già in uso dell'altro utente. Anche se questo non era vero. Paradossalmente passando alla tecnologia flash, questo non succede più. Quindi evidentemente la latenza, seppur minima, che veniva introdotto all'ostroge tradizionale, d'accordo, faceva sì che non si completasse correttamente la chiusura del file. Quindi questo per noi è stata una piacevole scoperta. Quindi diciamo che voi avete adottato il flash per una cosa e avete trovato un vantaggio. Che spesso è anche quello che ho visto io, nel senso che molti utenti adottano la memoria flash per risolvere un problema e si ritrovano magicamente che ne risolvono altri. Perché noi il problema, diciamo, la considerazione che faccio sempre, quello che si diceva un po' prima, cioè il fatto di prevenire l'utente, cioè la sua effazione al disservizio che sia la cosa peggiore che ci possa essere in un'azienda. E siccome nessuno, al di là di pochi utenti, verrà mai a dirti che si trova male con un certo applicativo, la rete non è veloce, piuttosto che bisogna cercare di prevenire. Per questo stiamo cercando di fare i passaggi nel momento in cui ci rendiamo conto che la situazione magari non solo può migliorare, ma magari sta andando un pochino a peggiorare. Ma dal punto di vista dell'utente finale, perché poi in realtà, voi avete notato che c'è stato un abbassamento della latenza, ma gli utenti hanno notato un... Assolutamente no. Non c'è percezione, ma non perché non l'abbiano notato, ma perché non te lo fanno notare. Perché come sempre succede, no? Se c'è una cosa che va male, ci si lamenta, ci si lamenta con tutti, se una cosa va bene, è normale, no? Io faccio sempre l'esempio di quando entri in macchina, tu non ti chiedi se la macchina si accenderà, o se si accende e dici, accidenti sti ingegneri, però... Dei fenomeni. E lo stesso succede nell'azienda, cioè se tutto va bene, tutti zitti, tutti buoni. Voi però l'avete notato. Sì, assolutamente. Da noi si dice non use good news, no? Quindi se tutto tace, vuol dire che tutto va bene. Sì, ho visto un'immagine su Facebook un paio di giorni fa, dove c'era scritto l'IT è come un matrimonio, se va tutto bene, nessuno ti ringrazia, ma se c'è qualcosa che non va, apri ti c'è. Esattamente così. E quindi, facendo conto di questa infrastruttura che avete, la Flash ce l'avete solo nel sito primario? Sì, perché non utilizziamo meccanismi di replica basati sullo storage. In realtà la replica la facciamo, utilizzando praticamente le piattaforme software del vendor stesso. Quindi per quanto riguarda SAP utilizziamo Oracle, per quanto riguarda la parte di posta elettronica, il sistema embedded all'interno della piattaforma Exchange e così via. Abbiamo provato inizialmente, quando avevamo lo storage classico, a fare praticamente replica sincrona e o asincrona, d'accordo? Però all'epoca quello che ti consentiva la rete pubblica era veramente limitato per quanto riguarda la replica. E considerate che noi abbiamo tutta la nostra rete, sia i negozi che le varie serie del gruppo, sono tutte su rete pubblica. Quindi non abbiamo PLS, non abbiamo niente. E riguardo invece al fatto che hai menzionato SAP come sistema gestionale, lì avete visto, cioè avete utilizzato la flash? No, in questo momento ancora no. Il SAP è sullo storage tradizionale, perché non abbiamo praticamente problemi per quanto riguarda anche procedure batch, magari durano diverse ore. Il fatto di portarle a farle durare mezz'ora, quindi di ridurre magari anche di un decimo addirittura, cioè portarle a un decimo rispetto al tempo intero, non ci porta così in vantaggio. Cerchiamo di tenere praticamente il flash laddove effettivamente ci rendiamo conto che ci possono essere delle lamentele. E per il futuro cosa ti aspetti da questo punto di vista? Cioè nel senso che adesso appunto hai detto flash e il resto, che adesso non dico trash perché è la tua condizione, quindi è tutto ancora molto separato da questo punto di vista. Sì, sì. Il nostro problema praticamente è la gestione del file server, nel senso che noi utilizziamo il file server tradizionale a cartelle ed è ovviamente un caos, perché andare a tenere oltre 100 milioni di file organizzati non è semplice, d'accordo? Quindi l'idea è quella di passare praticamente dei file server e il tag based, quindi un po' come fanno i social piuttosto che... Però sarebbe una rivoluzione veramente copernicana all'interno dell'azienda e come voi sapete introdurre nuove metodologie di lavoro non è sempre semplice, soprattutto non è sempre semplice andare a dimostrare quello che è il vantaggio, perché il tag based potrebbe essere un vantaggio enorme per noi dal punto di vista l'IT per quanto riguarda la gestione, non so quanto potrebbe essere l'utente. Quindi in questo momento il ragionamento è un po' in quella direzione, però siamo molto molto cauti. Anche perché per esempio noi siamo passati negli ultimi anni da utilizzare software di produzione diverso rispetto a quello attuale e lì è stata veramente una lotta. Quindi avete dei progetti ma ancora sono più sulla carta? I progetti che stiamo prendendo in considerazione adesso sono progetti CRM e BI che sono un po' in oltrenda degli ultimi anni, noi siamo arrivati a un po' di rincorso perché non siamo particolarmente reattivi sull'innovazione tecnologica, non tanto dal punto di vista infrastrutturale quanto dal punto di vista applicativo, perché il nostro è un lavoro tradizionale, cioè fare un libro che se ne dica al di là del fatto che il digitale, ma è qualche anno fa, è già presente nella vita di tutti noi ed è praticamente una realtà, però fare un libro si faceva così 400 anni fa e si fa così oggi. Non è che è cambiato molto, quindi si possono ottimizzare le cose, ovviamente si possono accelerare i tempi, però l'andare a introdurre delle nuove piattaforme software di lavoro su un mercato così tradizionale, d'accordo, non è semplice, anche perché la parte di board ovviamente deve essere sensibilizzata su queste nuove tecnologie, devono essere comprese, devono essere accettate e somatizzate e non è sempre un processo diciamo lineare e corto. Adesso sono anche impreparato, io mi ricordo Giunti per questi libri bellissimi su Leonardo, spettacolari, ma costavano anche una fiuma. Ma quelli perché sono fatti a mano? Sì, sì, infatti erano bellissimi. Però c'è una parte di editoria digitale, comunque quella parte lì l'ha gestita esternamente? No, facciamo tutto internamente, anche perché in realtà andare praticamente a gestire di editoria digitale, che cosa vuol dire? Che all'interno del processo che porta praticamente l'artefatto su carta, ad un certo punto questo processo devia e si va verso la piattaforma digitale. Quindi non c'è stato, diciamo, dal punto di vista tecnologico, una rivoluzione, cioè non è stato stravolto il processo. C'è sempre l'idea editoriale, c'è sempre comunque il redattore, c'è sempre il grafico, quindi deve essere composto comunque l'artefatto. Poi dopo diciamo è l'uscita, invece di uscire sulla carta, viene praticamente fatta l'uscita o sul web o sull'ebook o sul formato, diciamo, che si decide. Diciamo che c'è una limitazione grossa oggi per quanto riguarda la manualistica, quindi il nero sul digitale è ovviamente molto molto semplice, d'accordo? Per quanto riguarda la manualistica, diciamo, ci sono dei problemi in più. Però diciamo che quello che dovevo arrivare è proprio il traffico web che voi generate sui vostri prodotti non è tale oggi da giustificare un'infrastruttura particolare? No, anche perché come funziona il business del digitale, in realtà non siamo noi che vendiamo direttamente, ma ci sono delle piattaforme di distribuzione a cui gli editori si affidano. Quindi in realtà non è Giunti che vende al pubblico, Giunti mette a disposizione della piattaforma di distribuzione, d'accordo, il file digitale. Quindi per noi da questo punto di vista è assolutamente trasparente, cioè non ha nessun tipo di impatto. Quello che stiamo facendo sul digitale è la parte di commerce, quindi cercare praticamente di andare a unire quello che è il business tradizionale dello store, d'accordo, con il business praticamente innovativo del digitale. Queste però sono idee che abbiamo e che stiamo portando avanti, ma in questo momento sono soltanto a livello di idee. Però dal punto di vista infrastrutturale diciamo non hanno un impatto pesante. Ti volevo chiedere se per i casi d'uso che hai illustrato e in generale per il ciclo di vita delle informazioni e dei documenti avete considerato l'utilizzo dell'object storage? No, non l'abbiamo considerato perché a oggi quelle che sono le nostre esigenze sono veramente estremamente semplici. Poi il problema è che purtroppo c'è la tendenza a investire sulla tecnologia d'accordo piuttosto che educare l'utente. Noi siamo arrivati comunque alla convinzione che andare a mettere delle policy sull'utenza andare comunque a definire il processo di lavoro è sicuramente il più impattante che non andare a investire su queste tecnologie che risolvano alla base un problema che non ci deve essere. Una curiosità visto che avete questa necessità di fare i restore molto spesso avete valutato la possibilità di utilizzare gli snapshot a livello storage e utilizzarli come primo livello di backup? Allora sì l'abbiamo valutato però il problema è praticamente quello di andare dal punto di vista dei costi a impattare sull'infrastruttura storage quindi nel momento in cui si va praticamente o a tenere uno storico che comunque il file server te lo consente quindi dire bene io tengo n versioni dello stesso file d'accordo piuttosto che andare a fare snapshot e poi mapparli per andare a recuperare diciamo hanno un costo molto più alto rispetto all'infrastruttura attuale di backup perché se tu consideri che le partizioni di backup dell'editoriale perché poi noi abbiamo anche la parte scuola che sono file server diversi però solo l'editoriale abbiamo 20 tera d'accordo di unità logica visibile agli utenti andare a fare snapshot su 20 tera d'accordo rimapparli andare a pescare il dato poi bisogna vedere quanto lo tieni lo snapshot lo tieni un giorno lo tieni in 48 ore noi in questo momento abbiamo praticamente la capacità sul NAS di andare a gestire in maniera molto economica d'accordo quello che è diciamo la possibilità di recupero fino a 15 giorni e scusa un'altra domanda avete valutato invece di adottare la tecnologia flash lato host invece che lato storage per curiosità no direi di no anche perché noi utilizziamo tutta la parte di infrastruttura virtuale d'accordo che è disclessa quindi noi utilizziamo solo esclusivamente lo storage cioè non abbiamo macchine fisiche d'accordo dove praticamente abbiamo un collo di bottiglia sull'host quindi andiamo totalmente sullo storage da questo punto di vista prego e io volevo domandarti un'altra cosa qualche volta hai parlato di NAS qualche volta di file server giusto per avere un'idea cioè quindi insisti sulla 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 sun stai usando windows o stai andando altri prodotti qui diciamo si introduce un argomento quando abbiamo fatto la scelta sull'acquisto dell'SSD in realtà una delle valutazioni era anche quella dell'FPG cioè HPG ha introdotto con questi nuovi storage la possibilità di far fare lo storage da file server questo per noi era assolutamente straordinario perché si bypassava tutta la parte del sistema operativo andando a interagire direttamente client storage e loro lo chiamano file persona group il problema qual era? non l'abbiamo non l'abbiamo adottato perché in realtà mancava manca ancora da parte dei vendor tutta quell'integrazione per esempio del controllo antivirus quindi avevo dovuto mettere un proxy davanti allo storage e questo praticamente avrebbe invalidato il vantaggio che avevo a togliere la macchina Windows quindi la valutazione quindi usi Windows perché è più intelligente sì da questo punto di vista sì assolutamente o quantomeno perché io ho perché io ho comunque una pletora di vendor su cui posso scegliere per quanto riguarda attività da corono specifiche sul file server ripeto questa cosa qui e visto che sono signori di HP loro lo sanno perché una richiesta l'ho già fatto cioè andare a aprirsi a un mercato potrebbe essere sicuramente interessante poi è chiaro che farà lo storage un mestiere che non è il suo perché non posso pensare che lo storage faccia anche da antivirus però non posso neanche pensare che con l'utenza che ho io mettere praticamente un proxy a cui accedono tutti il file viene aperto controllato messo sullo storage e viceversa no no ma immagino che comunque con i numeri che hai anche se ci fosse una soluzione antivirus sarebbe veramente impattante quindi niente riguardo invece al fatto che tu hai un processo di lavoro che appunto hai dei gruppi di lavoro che probabilmente accedono a delle cartelle condivise più i file personali riguardo questo tipo di processi che non sono probabilmente solo legati all'SSD ma tu vedi nel futuro appunto storage anche più intelligenti che possono venirti incontro io prima ho parlato di queste automazioni che si possono innescare e addirittura tu avendo una testa Windows e quindi teoricamente si può scrivere del codice per fargli fare dell'attività avete pensato qualcosa avete già implementato allora in realtà non abbiamo ancora pensato a niente ma siamo ben consci del problema ovvero tutto questo intelligenza lato storage quindi che viene data dal team provisioning dal fatto che c'è lo zero detection cioè tutte queste tecnologie che ti consentono poi di portare la parte di virtualizzazione veramente a livelli molto molto importanti poi alla fine si ritorcia a quanto di te perché questo over provisioning se non lo controlli poi rischi veramente di arrivare a saturazione il problema dal mio punto di vista qual è? è il fatto che ancora oggi purtroppo ci sono troppe attività manuali da fare perché è vero sì che si possono schedulare faccio un esempio ora che in questo momento ne stiamo passando da uno storage a un altro per soltanto su alcuni volumi io devo comunque andare a dire allo storage guarda questo volume qui l'ho spostato quindi ottimizza praticamente il cpg e questo non posso ovviamente schedularlo perché non è un'attività che io faccio regolarmente però devo farlo manualmente quindi dal mio punto di vista se lo storage fosse un pochino più intelligente e a dialogasse in maniera più approfondita perché è vero si parlava delle WI però in realtà sono informative d'accordo cioè sono informazioni che te vedi inerenti allo storage dall'interfaccia VMware mi piacerebbe se fosse una reale integrazione cioè che VMware potesse parlare direttamente con lo storage e andare a dire bene ok siccome ho cancellato questa macchina io a questo punto ti metto tutti gli zeri laddove praticamente c'era questa macchina virtuale in modo che tu possa riprenderti lo spazio e poi rimettermelo a disposizione in realtà questo ancora oggi non succede se non diciamo in parte è un processo semi-automatico non è un processo automatico invece sul lato mi è sfuggita la domanda mentre pensavo alla tua risposta no sul lato del ancora Windows eccetera noi prima abbiamo detto 150 terabyte 200 milioni di file ma lato server virtualizzati o meno com'è com'è l'infrastruttura allora noi in questo momento abbiamo praticamente il un'infrastruttura blade con circa una ventina di server d'accordo questi server qui sono il massima parte virtualizzati il ci sono soltanto tre piattaforme che praticamente non sono virtualizzate sono SAP exchange ma solo per fatica devo essere sincero non c'è un ragionamento dietro è un'infrastruttura che ci portiamo dietro da anni funziona correttamente non ha in questo momento necessità di un boost e comunque le macchine sono ancora sono ancora all'altezza del servizio le restante macchine praticamente sono come si diceva prima il server diskless che gestiscono praticamente tutta la piattaforma VMware su cui abbiamo tutta una serie di servizi che vanno dalle macchine per gli sviluppatori al siti web piuttosto che abbiamo un sistema di autenticazione centralizzata per quanto riguarda il siti web chiamato CAS quindi diciamo la facoltà di loggarsi su un sito e essere riconosciuti su un altro sito del gruppo senza bisogno di registrarsi e quindi tutta la parte database siano essi MariaDB piuttosto che SQL quindi siamo alla fine diciamo l'esigenza è quella di una qualsiasi azienda quindi abbiamo diverse piattaforme non sentiamo in questo momento la necessità di andare a migliorare il tipo di performance perché abbiamo raggiunto comunque un buon livello poi è chiaro che sei costretto a andare a fare gli aggiornamenti perché i vendor rilasciano il nuovo sistema operativo la nuova versione è incompatibile con il sistema operativo e questo lo soffriamo molto sulla parte Mac perché lì questo processo che su altre situazioni praticamente si sente meno lì si sente veramente molto cioè non ha il controllo della no perché noi abbiamo tre componenti che sono il sistema operativo l'applicativo quindi il design e la parte di font questi tre oggetti si rincorrono sempre ora fra l'altro adobe ha spostato tutta la parte diciamo di licensing sul cloud quindi diciamo c'è un ulteriore passaggio da fare però il cloud cioè questa versione qui non è compatibile con le release vecchie del vecchio sistema operativo però noi dobbiamo tenere il sistema operativo perché ci avevamo ancora degli impaginati su express quindi c'è una situazione abbastanza complessa da gestire l'hai detto te cloud quindi posso fare la domanda cioè qual è il vostro rapporto col cloud quindi anche appunto mi hai detto che l'applicativo o gli applicativi principali sono già licenziati attraverso il cloud modi officer 6.5 parzialmente ovviamente cos'altro usi di cloud e cosa pensi di fare nel cloud allora dal mio punto di vista io ho una voce molto tradizionale nel senso io a meno che non ci siano dei vantaggi importanti d'accordo tengo tutto a premise abbiamo in questo momento due esperienze su cloud che sono due siti di e-commerce che sono giunti al punto.it e scuolastore.it li abbiamo messi su AWS ma per un motivo molto semplice noi abbiamo un rapporto molto forte con Amazon proprio un rapporto di business perché la nostra catena di negozi è praticamente il titolare della distribuzione di Kindle per quanto riguarda il retail a livello nazionale nel momento in cui siamo andati a fare praticamente un sito e-commerce che si appoggia sul programma vendor di Amazon la scelta è stata obbligata però io non sono molto convinto del cloud né per quanto riguarda i costi né per quanto riguarda diciamo il fatto che a oggi essere agnostici d'accordo in relazione al cloud è un problema quindi ripeto capisco perfettamente infatti noi stiamo adottando una soluzione di Wi-Fi per le librerie proprio basata con il management sul cloud e poi l'hardware diciamo nostro perché è una soluzione eccellente su questo tipo di soluzione diciamo il incontro a un po' al mio favore andare a esternalizzare una parte del business d'accordo su cloud al di là diciamo di quale tipologia secondo me a oggi non ha nessuna convenienza né dal punto di vista economico né dal punto di vista di performance per l'esperienza ovviamente ho vissuto io ti faccio un'ultima domanda visto che prima hai nominato MariaDB che ovviamente è open source quindi avete degli sviluppatori avete qualcuno che sta lavorando su delle applicazioni interne allora sì noi abbiamo praticamente un tutto il sistema gestionale delle librerie è basato praticamente oggi sul MySQL d'accordo però come sappiamo diciamo MySQL ha preso una strada diversa rispetto a quella di quando è nata e il gruppo sviluppo è andato verso MariaDB quindi in questo momento noi stiamo praticamente migrando tutta la parte tutta la struttura di controllo del retail su questo software proprio perché ci dà più garanzie d'accordo per quanto riguarda la roadmap di prodotto e comunque ci dà più garanzie per quanto riguarda diciamo le risorse che si possono trovare sul territorio bene quanto spazio avete recuperato con le dupliche compressione rispetto all'estorage in questo momento siamo ancora siamo ancora in fase di migrazione quindi non è un dato definitivo considerate che noi lavorando facendo il lavorando su file su impaginati molte sono fotografie quindi non non si comprimano ad oggi il rapporto di compressione è il rapporto di duplica è 2 a 1 due domande organizzative che magari sono utili anche per il prossimo cliente quindi più in generale non tanto sulla tecnologia quindi la prima domanda non ho capito se l'hai detto quanti siete cioè tra voi interni nell'IT o vedo che avete un po' di gente intorno sviluppatori consulenti quindi l'ecosistema IT quanta gente impiega rispetto al numero di utenti le posso fare una domanda secondo lei è un'azienda di mille persone e 19 aziende quanto potrebbe essere un numero non ne ho idea però non so come considerate il lavoro flessibile perché magari hai il tuo team noi siamo in nove nove dipendenti sì nove dipendenti non consideriamo il lavoro flessibile se non ovviamente laddove ce n'è bisogno su grossi progetti per esempio il discorso CRM e BI ovviamente vedano coinvolti fornitori e consulenti però non abbiamo delle figure per un progetto un conto invece io magari ho dei consulenti che mi aggiornano l'antivirus una banalità evidentemente una decina di persone fanno tutto sì diciamo che come dicevo prima ci piace essere estremamente reattivi e avere comunque una pertinenza su quella che è il dato aziendale quindi a me piace che le mie persone possano reagire a qualunque domanda in tempo reale poi sicuramente in certi ambiti mi devo rivolgere al professionista piuttosto che all'azienda però vogliamo avere tutto sotto controllo e le nove persone divisi da sviluppatori sistemisti helpdesk diciamo in questo momento riusciamo a dare il servizio che ho in testa quindi H24 diciamo l'H24 sono io ti chiamano la mattina di Natale se succede con quello esatto stamattina ho ricevuto una mail alle 7 mentre ero in treno appunto perché il BV noi utilizziamo ancora la parte di BV per quanto riguarda il Data Warehouse aveva scomera fallito un backup aveva fallito lo spazio sul disco quindi non funzionava quindi l'H24 sono io la seconda domanda ancora organizzativa magari non è provocatoria si parla di shadow IT quindi di la gente si fa i fatti vostri che voi non lo sapete ovviamente in teoria non lo sapete come calcolare il nero non si dovrebbe sapere più o meno però avete un'idea del nero se esiste quanto lo quanto lo quantificate allora diciamo che l'azienda è cresciuta moltissimo negli ultimi anni prima non aveva un IT vero e proprio quindi chi aveva un pochino di intraprendenza si faceva il suo applicativo il suo Db Access andava a farsi quello che era il suo perimetro cercando di essere autosufficiente negli anni abbiamo cercato ovviamente di togliere tutte queste situazioni c'è soltanto una pevola nera in questo momento ci sta dando un po' di fastidio però conto nell'arco dei prossimi 12 mesi diciamo di pulire tutto i dropbox personali o simili sì allora noi siamo molto aperti da questo punto di vista cioè non è che l'azienda ha delle policy rigide e ferre da questo punto di vista anche perché noi abbiamo moltissimi consulenti cioè l'azienda nostra vede fra grafici fra redattori fra consulenti professori cioè veramente ci sono tantissime persone e quindi bisogna essere un pochino elastici è chiaro che l'elasticità va a discapito della sicurezza però in questo momento non blocchiamo niente cerchiamo di controllare ecco quello sì diciamo fino ad oggi ci siamo riusciti con strumenti più o meno voluti diciamo senza grossi problemi vorrei mi piacerebbe poter continuare in questa direzione poi vediamo bene c'è un'altra domanda là Vim non avete non avete mai valutato Symantec no allora noi siamo passati diciamo dal dal tradizionale quindi da data protector di HP per scrivere direttamente sul nastro che con con gli agenti di backup quindi là dove ci fosse c'era ora con l'exchange piuttosto che sarebbe dimostrato un fulmine d'accordo sulla parte file server diciamo abbiamo fatto diversi interventi anche con professionisti diciamo venuti dal dal da HP però non siamo riusciti a risolverlo proprio perché c'è non il file server non spinge d'accordo a una quantità sufficiente di dati per poter praticamente andare a dare un funzionamento diciamo il regolare al nastro abbiamo fatto questo poco con Vim ci ha convinto perché effettivamente sulla parte sulla parte virtuale dal mio punto di vista devo dire è estremamente semplice estremamente funzionale ci è piaciuto ho detto questo perché comunque Symantec con l'appliance magari poteva venire incontro sia dal punto di vista di deduplica sia di velocità di backup e restore alla vostra esigenza abbiamo fatto delle verifiche andando praticamente a utilizzare degli appliance nati apposta con le tecnologie di deduplica e di compressione però i costi non erano sostenibili perché il problema è che sicuramente sarebbero stati più efficienti però non c'era non c'era il rapporto con il prezzo che c'era il rapporto